Sì, vedi ok, Veronica. E c'è una buona anche! Sì, sì. No, no, spero! Ma io credo che la mattina si deve passare, ma io non c'erano a mezzo. Se può scendere loro già vestire, non ancora so! Fantastico! Vicino all'uno, anche di notte. Ancora vuota! No, è troppo bello! Anche ho una laurea! Fantastico! E anche alla laurea! Se ne può passare riconoscire questa laurea! Questa è idea mia! Fantastico! Ma non c'erano mezzo! 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 E' una laurea! E' una laurea! E' una laurea! Io non c'erano mezzo!